Noi ci siamo già parlati oggi, no? Sì. Se mai tu dovessi andare via lo sai che... Quello che è nato qua, non so ancora che cos'è, però è forte. Quindi quando ti sei scusata non ti devi scusare, ma era io che ti devo ringraziare. Perché dopo non so quanto tempo, tanto, sono tornato a sentirmi vivo e non mi aspettavo minimamente una cosa del genere qua dentro, anzi, ero proprio contrario. Quindi se mai dovessi uscire, pensa con la tua testa, non rimetterei barriere. e aspetta che esco. Ok. Ok? Ok. Siamo un po' in imbarazzo, però... Aspetta, scusa. Tranquillità. E ti aspetto. E ti aspetto. Grazie a tutti